Più di 20 anni fa ho preso la decisione che avrebbe cambiato più di ogni altra la mia vita, iscrivermi al MasterJeka. Ciao, sono Nicola. Ciao, sono Sofia. MasterJeka. 2018. Io ho scelto il MasterJeka per approfondire tutte le tematiche ambientali. Non avevo ancora ben chiaro cosa volessi fare e il MasterJeka mi ha permesso di ampliare tantissimo le mie conoscenze e di fare delle amicizie molto importanti. Io ho scelto di partecipare al MasterJeka perché avevo un forte interesse della sostenibilità nel mio privato e volevo farne anche il mio lavoro e grazie al MasterJeka è stato così. Ciao, sono Edoardo Giusti e sono un avvocato in diritto dell'ambiente e dell'energia. Grazie al MasterJeka ho avuto la possibilità di poter conoscere tantissime persone confrontarmi con loro, poter migliorare me stesso e poter apprendere nuove cose. Il MasterJeka mi ha servito sicuramente per poter avere un diverso punto di vista di un mondo con la sostenibilità ambientale e sociale che ha milioni di sfaccettature e che è una scoperta continua. Consiglio quindi il MasterJeka perché sicuramente a me ha cambiato la vita in positivo. Ciao, sono Alessandro Colaggio Vanni, sono un biologo marino e attualmente lavoro come libero professionista e faccio consulenza ambientale alle aziende che operano nel settore offshore. Venivo da un'esperienza lavorativa di qualche anno in giro per il mondo, poi mi sono fermato e grazie al Master ho trovato il modo di poter avanzare a livello lavorativo con la mia carriera senza però rinunciare a quella che è la mia passione che è per l'appunto il mare, dove ogni tanto torno. Sicuramente il Master è un trampolino per arrivare a delle aziende che altrimenti non ne avrebbero neanche selezionato. Ciao, io sono Alberto Giuliani e mi sono iscritto al MasterJeka 2023 perché mi è interessato a approfondire i temi dell'abio food. In realtà poi frequentando il Master mi sono reso conto che i temi di sostenibilità erano molto più ampi e mi sono appassionato anche a tutti gli altri temi. Ciao, sono Petra Petrilli e ho frequentato il MasterJeka 2023 e l'ho scelto perché credo che tramite il Master si affrontino i temi della sostenibilità a 360 gradi e si possa avere l'opportunità concreta di dare il nostro contributo al cambiamento. Ciao, io sono Carlotta. Ciao, io sono Fabio. Ho partecipato al MasterJeka nel 2021. E io invece qualche anno prima nel 2015. Ho partecipato al MasterJeka perché volevo ampliare le mie conoscenze sulla sostenibilità e fare poi in futuro scelte più consapevoli a livello aziendale. Io ho partecipato al MasterJeka perché volevo diventare un esperto in tema di sostenibilità e cosa che è successa è perché adesso faccio ricerca e mi occupo di sostenibilità ambientale e sociale e poi il MasterJeka mi ha lasciato tantissimi amici sparsi in tutta Italia con cui ancora sono in buonissimi rapporti. Ho partecipato al MasterJeka.